E' una mattina quando si sente, sono otto, otto, poi uno torna alle 5 e mezza, alle 5 e mezza, tanto per dire, la mattina, veramente, poi alle 6 ti alzi, ma è al lavoro e quello torna, quello torna, 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 e si dice che torna un piglia pesce, la notte, poi si fa la barba, le cose, il caffè, il caffè, almeno, che caffè, la nota, che caffè, se vende, se basta, e' il russa, 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 anche qui è torno, io devo andare a un in, e se tu sto fu scio, che me l'ho peccato, Vieni, 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 riuscito, riuscito. Ah, ti sento, ti sento, io! E' il piatto. Questa è la nata. Adiore, ti so. Io ando qua, e poi lo faccio così. Guardi, tacchi. Però, almeno io, tutti i giorni lavoro. Provo il caffè che ci vorranno, e poi lo faccio così. Adiore! 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 Vieni, vieni! Vieni al caffètero con il caffè, che sta prendendo l'aroma. Adiore. 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 Io andavo, adiore. Adio che mi fa una maniera. Non mi fa una maniera perché mi spaventano. Ma che caffè... C'è uno un po' dolpito. Adiore! Adiore! Adiore. 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 a Roma, che cos'è? ora, ora me ne vado me ne vado alloggiare me ne vado alloggiare non lo sento più sto figato ma poi ma poi sta perdato sta perdato ma che cazzo, come frega me che sta perdato tanto sono da l'azio